Il deputato Ciro Maschio, ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Questo emendamento è di assoluto buonsenso e lo sottoscrivo. La sinistra, purtroppo, da sempre, per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, che in Italia è drammatico, pensa di abolire i reati, di liberare i condannati o i delinquenti sulla pelle delle vittime. Questa ovviamente non è la soluzione. Per Fratelli Italia le soluzioni sono tre. Uno, il rimpatrio dei detenuti stranieri, e su questo non è stato fatto niente. Due, investimenti sulla polizia penitenziaria e sul personale, che ci sono stati ma sono insufficienti e inadeguati. Tre, costruire nuove carceri. Per farlo bisogna investire realmente e non solo a chiacchiere. E questo emendamento, che chiede di utilizzare 4 miliardi per costruire nuove carceri, anziché per il cashback della lotteria degli scontrini, è una proposta concreta che ci auguriamo venga condivisa a tutti.